Nell'anticipo di sabato la Fiderisandria ha espugnato il San Ciro di Portici con un secco 3-0, firmato dal sinistro di Cristaldi e dal destro di Avantaggiato nel primo tempo e da un colpo di testa di Monaco nella ripresa. Al Poli finisce in parità tra Molfetta e Nardogoni, padroni di casa avanti in apertura con Acosta e pari Neretino oltre il novantesimo con il solito opportunista svedese Tom Ross. Al Monterisi colpaccio in rimonta del Real Agro Aversa che riscatta il pasticcio nella precedente trasfetta di Francavilla, costato la sconfitta a tavolino. Audacio e Cerignola in vantaggio con un destro al giro di Esposito, ma una ripresa una doppietta di testa di Improta regala i tre punti ai campani. A completare il programma della quattordicesima giornata ci sono gli 0-0 con cui si sono concluse le partite in cui erano impegnati De Lucano e Francavilla, Lavello che resta comunque da Solimbetta e Cucerno e il match del d'Angelo tra Tim Altamura e Taranto con gli Ionici all'esordio nel 2021. Chiudono la classifica al città di Fasano e la Putolana appaiate all'ultimo posto a quota 7. Rinviate le gare tra Bitonto e Casarano e Sorrento e Putolana. In questo campionato spezzatino si torna in campo mercoledì prossimo per il turno introsettimanale in cui è già stato deciso il rinvio del confronto tra Casarano e Sorrento. Grazie a tutti! Grazie a tutti!